Dopo il 4-0 rifilato al Trizion nella gara d'esordio e la sconfitta di Coppa Italia, l'Aianese si prepara ad affrontare una delle trasferte più difficili della stagione con la squadra nero-verde impegnata a Forlì. L'impegno di mercoledì è stato importante al delà del risultato perché mi ha permesso di valutare molti ragazzi, sono le parole di mister Simone Venturi. Sono dispiaciuto per il punteggio ma al tempo stesso soddisfatto delle risposte che ho avuto. Il Forlì è senza dubbio una delle migliori squadre del girone, oltre ad avere valori individuali importanti hanno un'organizzazione e una forza fisica che può mettere chiunque in difficoltà. Per noi sarà fondamentale curare dettagli ma andremo in campo per vincere senza timori reverenziali. Sarà una partita tirata e combattuta, termine Venturi, dovremo avere più fame ed essere più cattivi di loro. Appuntamento quindi domani alle ore 15 allo stadio Morgagni con l'Aglianese che dovrà fare a meno del solo Couco, forse in panchina, mentre a padrone di casa mancheranno tre pedine importanti come Fabri, Piva e Buonocunto.